Ancora in agitazione i dipendenti dell'IPAB Maria Cristina di Savoia di Bitonto. L'ente oramai si trascina dietro una crisi organizzativa e strutturale industriale che sembra non avere sbocco. La recente di conferma del Presidente non sembra aver portato quella schiarita che in tanti, a partire dai dipendenti, si auspicavano. Così da questa mattina presigliano l'ingresso della struttura chiedendo chiarezza sul loro futuro ma anche il saldo degli stipendi. L'ultimo comunifico ricevuto la scorsa settimana infatti riguarda la mensilità di luglio e in tanti lamentano anche gravi problemi familiari a partire dalle rate di mutuo da pagare. A dare sostegno alla protesta l'FLP, la Federazione dei Lavoratori Pubblici, che con il suo rappresentante chiede chiarezza e sicurezza per il futuro dell'IPAB. Ci sono un sacco di lavoratori che hanno avuto problemi per quanto riguarda gli sfratti o situazioni economiche veramente disagiate e che non sanno più come affrontare le vicende economiche con tre mesi di ritardo del pagamento degli stipendi. Non si sa il futuro di questa azienda, come l'amministrazione intende proseguire e andare avanti perché se ha un incasso più o meno di 50 mila euro mensili c'è un sborso di 90 mila euro più o meno di spese, quindi con tutta una serie di pagamenti ancora da fare, con decretti ingiuntivi che arrivano quotidianamente e con un debito ormai più o meno intorno ai 600 mila euro. Non è possibile più andare avanti senza un progetto, senza una capacità imprenditoriale, senza un management.